Un uomo di 67 anni, Dino Parati, residente ad Arezzo, è morto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando in un terreno. L'infortunio è accaduto in mattinata a Dolmo, alle porte di Arezzo. A dare l'allarme sono stati familiari che non lo hanno visto rientrare a casa per pranzo. L'uomo era uscito alle 8 e è stato ritrovato poco prima delle 13 dai vigi del fuoco e dai carabinieri avvertiti dalla famiglia. Inutili soccorsi del 118, l'uomo è stato trovato morto sotto il mezzo agricolo. Il terreno sul quale stava lavorando non era di sua proprietà, c'era un accordo proprio con il proprietario per l'utilizzo gratuito della terra. Dino Parati in quel terreno curava infatti anche un orto. L'uomo stava portando sul trattore un carico di legna che doveva spostare lungo un pendio. Il mezzo si è di colpo ribaltato. Il trattore, non di grandissime dimensioni, ha travolto l'uomo e per lui non c'è stato niente da fare. Il pubblico ministero di turno, Marco Dioni, non ravvedendo responsabilità nell'accaduto da parte di altre persone, ha disposto la riconsegna della salma ai familiari. Ai carabinieri spetterà invece ricostruire la dinamica dell'incidente.